Una grande storia per il cinema, una storia vera. L'illegalità era il mio mestiere, uscivo spinto da qualcosa di furioso che mi soffiava alle spalle. I soldi toccanassi appiando stanno, dentro le case. Tu non sei come gli altri. E certo, sei più bello. Dico sul serio, tu sei sensibile, dolce. Valerio Mastandrea in una storia realmente accaduta. L'odore della notte. 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 Grazie a tutti.